Allora, buongiorno a tutte le persone che sono collegate con noi. Siamo per il terzo incontro dedicato ai quartieri di Roma e alle immigrazioni nei 150 anni di Roma Capitale. Quest'oggi ci dedichiamo al Tufello e dintorni. La Rassegna è un progetto organizzato da Biblioteche di Roma, dal Consiglio Nazionale di Ricerche e Istituto di Studi sul Mediterraneo. Oggi siamo ospiti, soltanto virtualmente, della Biblioteca Egno Flaiano. Ringraziamo moltissimo la responsabile della Biblioteca, Ottavia Murru, con cui abbiamo costruito questo incontro nei mesi precedenti. Le lasciamo la parola per un saluto introduttivo. Grazie Michele e buongiorno a tutti. Finalmente riusciamo a fare questo incontro. Lo dico finalmente perché era il 31 gennaio del 2020 quando ci siamo incontrati per la prima volta in biblioteca con gli amici del CNR e le colleghe dell'Ufficio Intercultura delle Biblioteche di Roma per organizzare alcuni incontri proprio sull'immigrazione a Roma, i 150 anni di immigrazione a Roma e soprattutto per quanto riguarda noi al Tufello. Il Tufello è un quartiere popolare, molto popolare, come sapete tutti è nato alla fine degli anni 30 con le prime costruzioni appunto nel 39-40 per dare alloggio al flusso migratorio che veniva dal sud Italia e venivano a Roma dove era richiesta la mano d'opera. In particolare poi subito dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato ancora di più il quartiere del Tufello creando tutte quelle case popolari che vediamo oggi. Case popolari che hanno avuto una riqualificazione negli ultimi vent'anni diciamo sia per l'avvicinanza ai quartieri bene del terzo municipio come Montesacro, Montesacro Alto, Palenti ma anche perché sono case popolari costruite un po' in modo diverso rispetto ad altri quartieri di Roma. Sono case molto grandi, gli edifici sono distanziati da ampi spazi verdi quindi danno la possibilità ai bambini e oggi anche agli anziani di poter stare all'interno del loro comprensorio in mezzo al verde. Non da ultimo l'apertura anche della metro Ionio che ha portato un miglioramento nel territorio sia dal punto di vista attivo di queste case che hanno fissato valore alcune di queste case sono state anche vendute, queste case popolari quindi aumentando di valore sia per la viabilità e per l'avvicinanza anche ai quartieri Montesacro e Montesacro Alto. La biblioteca Ennio Floiano come sapete è stata inaugurata nel 2003 e esiste proprio nel cuore del Tuffello è una grande biblioteca di circa 800 metri quadri con tutti i servizi e diciamo che è una biblioteca che serve tutto il terzo municipio è una biblioteca insufficiente a garantire veramente una presenza continua e costante in tutto il territorio pensate che il terzo municipio è grande quasi come la città di Bologna dove di biblioteca ci sono oltre 20 quindi insomma il rapporto noi siamo molto molto lontani da questo target da questo tipo di servizio che si può offrire in una città come Bologna la biblioteca è anche un buon nutrito patrimonio librario della sezione Roma in particolare anche su questo sull'immigrazione non solo ho il testo di Michele Colucci ma potete trovare anche altri tanti testi che riguardano il territorio Montesacro Pivene, Tuffello, Val Melagna e così via per averli che cosa dovete fare potete scriverci, consultare il nostro catalogo scriverci via mille o telefonarci nei giorni di apertura della biblioteca dal lunedì al giovedì sperando naturalmente che tutto si possa risolvere il più presto possibile e ospitarvi tutti in sede chiaramente la biblioteca per il territorio non solo del Tuffello ma in particolare è una risorsa fondamentale pensate che generalmente non parliamo ora del periodo della pandemia che ci ha costretti a casa ma generalmente noi offrivamo ad esempio per quanto riguarda i quotidiani 5 quotidiani diversi ogni giorno disponibili per l'utenza dalle 9 del mattino quindi un anziano del Tuffello poteva venire in biblioteca di verlo stare al caldo magari versi una cioccolata calda con soli 45 centesimi e avere una pluralità di informazioni avendo più quotidiani a disposizione la biblioteca lavora molto anche con tutte le scuole di ordine e grado e quindi io ho l'augurio che posso fare è quello di ritrovarci presto tutti in presenza e poter svolgere il nostro lavoro al meglio e magari organizzare questi incontri poi in sede non voglio trattenervi oltre voglio solo ringraziare Michele e i suoi colleghi la collega dell'Ufficio Intercultura e tutti voi che avete accettato il nostro invito e che oggi siete qui con noi auguro un buon proseguimento di lavoro a tutti vi aspetto presto in biblioteca lo spero per tutti buon proseguimento di lavori e buona giornata grazie ancora a tutti grazie, grazie mille a Ottavio Amur responsabile della biblioteca Flaiano e ha delineato un po' già nel suo intervento di presentazione i contorni anche delle attività delle biblioteche noi abbiamo immaginato questo percorso di ricostruzione storica dei 150 anni Roma Capitale proprio per tenere insieme sia la ricerca ricerca storica, ricerca sociale sui temi delle immigrazioni ma anche per andare concretamente a occuparci dei luoghi dei territori, dei contesti in cui si sono manifestati i fenomeni migratori e riannodare i fili di alcune storie tra passato e presente che a volte restano un po' lontani, un po' isolati soprattutto tra loro abbiamo inaugurato questo progetto con un convegno il 6 novembre abbiamo già incontrato due territori il territorio del Pigneto Pigneto è dintorni il 4 dicembre e Corviale, Corviale è dintorni l'11 dicembre vi ricordo che i materiali rispetto a questi eventi che già abbiamo svolto sono disponibili sui profili YouTube di Mediateca Roma dell'ISMED CNR e sul sito Roma150immigrazioni.it quindi per chi non ha potuto assistere agli incontri precedenti vi rimando a questi possibili luoghi dove poterli rivedere e dove caricheremo anche i video della giornata di oggi entriamo nel vivo della storia della prima fase di questo territorio dal punto di vista delle immigrazioni abbiamo Lidia Piccioni, Francesco Carchedi, Maurizia Russo Spena Giorgia Barnabei e Katia Alva con cui dialogheremo nella giornata di oggi iniziamo questa mattinata con l'intervento di Lidia Piccioni docente di storia contemporanea della Sapienza di Roma che ha seguito fin dall'inizio questo progetto e che ringraziamo molto per la sua partecipazione a lei la parola Buongiorno a tutti grazie ovviamente a voi per avermi coinvolto in questa iniziativa così interessante che veramente insomma trovo di grandissima interesse io sono molto contenta di parteciparvi appunto innanzitutto perché sono nata qui io sono nata appunto su Viale Ionio proprio di fronte e sono cresciuta fino all'età adulta diciamo in questa fetta di città e sia perché però soprattutto questo spicchio di città può essere considerato un modellino perfetto anche se ovviamente non unico della crescita di Roma contemporanea nel corso del Novecento che è una crescita che può essere paragonata a una specie di torta millefoglie con tanti strati in cui ogni parte è insieme, unita ma anche separata e naturalmente nell'analizzare questa torta millefoglie immediatamente emergono le tante provenienze che sono andate a formare appunto questa città nel corso del Novecento allora proviamo a farne un veloce inventario per ricostruire diciamo questo spazio in cui in particolare il tufello poi si è trovato a formarsi nei primi anni venti in fondo alla Nomentana oltre il fiume Aniene che viene scavalcato da un nuovo ponte che si chiama appunto Ponte Tazio Nuovo in confronto al vecchio ponte romano che tuttora è presente sul fiume e dicevo nei primi anni venti oltre appunto il fiume nasce la città Giardino Aniene e la città Giardino Aniene nasce da un consorzio tra il Comune, l'Unione Edilizia Nazionale e l'Istituto Case Popolari ed è pensato come un gruppo di villini nel verde sul modello delle Garden City di ispirazione anglosassone e quindi diciamo nasce all'inizio degli anni venti ma è il prodotto di una riflessione di un percorso urbanistico architettonico che era nato appunto all'inizio del novecento villini nel verde e una piazza, piazza Sempione con tutti i servizi concentrati quindi la chiesa, la scuola gli uffici comunali, la farmacia tuttora piazza Sempione è un modellino interessantissimo in cui possiamo rivedere questo tipo di progetto e ancora molti villini anche se poi sono stati spesso abbattuti e sostituiti da edifici più ampi però ancora molti villini sono visibili tutto intorno nell'area di Montesacro cosiddetta appunto Montesacro Vecchia il progetto è stato di Gustavo Giovannoni quindi appunto grandi riflessioni dell'urbanistica del novecento e chi viene, ecco entriamo subito nel vivo del nostro ragionamento chi viene ad abitare nella città Giardino Aniene è pensata per i livelli intermedi dei dipendenti pubblici e tra cui in particolare molte presenze delle ferrovie dello Stato quando io ero piccola mia nonna che veniva da Firenze ed era figlia di un capostazione di Firenze mi portava a visitare la sua amica che viveva in un bellissimo villino su via Montebianco che era a sua volta moglie, stata moglie di un dipendente delle ferrovie dello Stato quindi appunto è una cosa che ho potuto toccare con mano ma ecco con gli anni trenta arriva la parte che più ci interessa cioè l'insieme di edifici Valmelaina e Tuffello Valmelaina allora innanzitutto va detto che sono come appunto il prima già ben diceva Ottavia Murro fanno parte del progetto delle borgate ufficiali degli anni del regime fascista Valmelaina nasce tra il trenta e il trentadue e diciamo è fortunata nel senso che tra il trenta e il trentadue però viene costruita dall'Istituto Case Popolari perché invece nella prima parte della costruzione delle borgate fino alla metà degli anni trenta in realtà la gran parte delle borgate sono costruite direttamente dal governatorato e sono costituite fondamentalmente da cosiddette casette rapidissime che poi sono nella realtà altrettante diciamo baracche ufficiali mentre Valmelaina è già edificata dall'Istituto Case Popolari e quindi ha innanzitutto è ancora presente mentre appunto le casette del governatorato poi verranno negli anni del dopoguerra abbattute ed è costituita da un'imponente unità abitativa pensata per migliaia di persone nove fabbricati altri sette piani a formare un blocco chiuso quattordici scale con un ampio cortile interno prendo queste informazioni così precise da un bel libro di Luciano Villani Le Borgate del Fascismo che è stato un po' il libro che negli ultimi anni è del 2012 è riuscito più a fare il punto sulla costruzione della Roma delle Borgate viene costruita appunto dall'Istituto Case Popolari isolata nella campagna cioè l'unico altro polo urbano nelle vicinanze per l'appunto è la città Giardino Aniene che però è a qualche chilometro di distanza poi altri alloggi saranno sempre del gruppo Valmelaina saranno finiti nel 43 e poi nel 53 arriverà un terzo nucleo che verrà destinato a una parte degli sbaraccati di Campo Parioli che è diciamo un agglomerato di baracche che si viene a formare dopo la seconda guerra mondiale ma tornando al primo nucleo cioè quello del 30-32 chi ci abita sempre grazie alle ricerche di Luciano Villani ci abitano sbaraccati cioè persone che erano arrivate a Roma erano andate a vivere in modo del tutto illegale e diciamo molto diciamo elementare intorno alla città che il fascismo invece vuole in qualche modo allontanare dall'immagine della città e a cui quindi dà questo tipo di alloggi affittuari dell'istituto case popolari che erano stati in qualche modo inadempienti rispetto alle esigenze dell'istituto case popolari soprattutto morosi nel pagamento degli affitti e che abitavano in case dell'istituto popolare più centrali e che invece vengono spostati in questa specie di limbo periferico e poi il soggetto più famoso quando si parla delle borgate fasciste alcuni gruppi disfrattati dagli sventramenti del regime nel centro della città quindi chi sono? Sono sia persone appena arrivate gli sbaraccati appunto e forse in parte anche appunto i morosi dell'istituto case popolari sia invece popolazione radicata dentro la città che si trova a questo punto allontanata dal centro stesso e comunque sempre rifacendomi all'analisi di Luciano Villani in questo caso noi ci troviamo davanti a una forte componente sottoproletaria della Roma popolare quindi sono abitazioni per persone in condizioni molto modeste che vengono appunto allontanate anche visivamente dalla città poi 1939 1940 arriva il tufello il primo nucleo del tufello il tufello ha un'estensione maggiore rispetto a Valmelaina per chi viene costruito in prima battuta il tuferro l'istituto case popolari costruisce il tufello insieme al trullo che è invece in tutta un'altra parte diciamo della città per i cosiddetti rimpatriati chi sono i rimpatriati sono quegli italiani che erano emigrati in Europa e che si ritrovano a vivere alla VG quando chiaramente già cominciano a soffiare i venti di guerra in paesi che altrettanto chiaramente saranno poi nemici dell'Italia in particolare in Francia queste persone in parte scelgono di tornare in Italia perché il regime fa una grande diciamo battaglia pubblicitaria per richiamarli dicendo tornate tornate in Italia ci penseremo noi a voi e sia perché hanno paura ovviamente nei paesi dove si trovano di essere internati in campi in quanto appunto nemici in particolare ritornano appunto dalla Francia e infatti all'inizio diciamo del dopoguerra questa prima area del tuffello viene indicata come il quartiere dei francesi poi invece il tuffello continuerà a crescere avremo un tuffello 2 negli anni 40 un tuffello 3 nel 46 62 un tuffello 4 e 5 nel 55 fino agli anni 60 andando appunto sempre più verso la parte esterna della città però diciamo che l'elemento che lo caratterizza è che così come Valmelaina nella sua fase iniziale è un quartiere isolato isolato nella campagna romana diciamo semideserta ancora all'epoca con diciamo un sistema viario estremamente precario spesso le strade non sono state neanche diciamo nella prima fase rese percorribili nel modo migliore con pochissimi mezzi di collegamento a livello di mezzi di trasporto e con appunto una rete di servizi assolutamente elementari quindi quindi sia Valmelaina che il tuffello nelle loro fasi iniziali hanno moltissimi problemi non ci si vive bene in questi posti però però va detto che sono in qualche modo delle case che sono state pensate dall'istituto case popolari cioè non sono semplicemente dei contenitori dove mettere delle persone sono comunque figlie di un ragionamento che viene da lontano e che viene appunto dall'inizio del novecento su che tipo di edilizia è più adatta per le classi popolari e infatti oggi come diceva bene Ottavia Murro prima ci piacciono cioè quando noi andiamo oggi a Valmelaina e al tuffello siamo colpiti da questi edifici soprattutto siamo colpiti sia dalla diciamo dalle soluzioni abitative interessanti molto mosse in qualche modo sia soprattutto dagli ampi cortili interni pieni a questo punto di verde di piante e quindi questo tipo di edilizia di fatto pur nelle difficoltà o anzi proprio grazie in qualche modo alla vita difficile che vi si conduceva hanno portato a delle comunità fondamentalmente corali di fondo solidali no? e anche istintivamente antagoniste rispetto al potere costituito che le aveva messi a vivere in quel posto quindi qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo sia Tuffello che Valmelaina così come anche Montesacro molto presenti nella storia della resistenza romana tant'è vero che purtroppo ci sono numerosi caduti che vengono da queste aree sia le fosse erdiatine che tra i fucilati di forte bravetta quindi partecipazione alla resistenza e poi partecipazione altrettanto corale e diciamo antagonista alle lotte per la casa degli anni 50 60 e 70 a lungo queste aree restano isolate fino agli anni 50 appunto quando da un lato come abbiamo detto il Tuffello cresce ulteriormente spingendosi verso Via delle Vigne Nuove dall'altro arriva l'urbanizzazione della città invece consolidata che è in velocissima crescita negli anni 50 e questa crescita in qualche modo crea una saldatura tra i due mondi una saldatura tra la città borghese al di qua della Niene quartiere Trieste Viale Libia cresciuta negli anni del regime e invece la città delle Borgate pure cresciuta negli anni del regime ma immaginata come separata a questo punto siamo invece al saldamento il saldamento diciamo più definito avverrà nel 63 con la costruzione del Ponte delle Valli che scavalca appunto la Niene ma già nel corso degli anni 50 tra la Niene Viale Tirreno e Piazza Capri abbiamo un'urbanizzazione che si svolge su due livelli da un lato per mano di enti pubblici o comunque a partecipazione pubblica come l'Incis l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato che nel 1900 alla metà degli anni 50 costruisce tutto un insieme di palazzine per gli ufficiali e i sotto ufficiali della Marina e della Guardia di Finanza e accanto gli edifici dell'immobiliare l'immobiliare è il grande protagonista privato della crescita della Roma degli anni 50 diciamo sottoposto a grandissime polemiche e discussioni su cui non possiamo entrare però qui è un protagonista importante della costruzione del territorio sono in tutte e due casi sia quelle dell'Incis che quelle dell'immobiliare delle palazzine rivolte al ceto medio fondamentalmente al settore terziario degli impiegati e dei commercianti e a questo punto da dove sono arrivate queste persone ecco a questo punto siamo nel secondo dopoguerra e quindi comincia il grande arrivo dal mezzogiorno mentre quando parlavamo degli sbaraccati degli anni 20 e 30 in realtà molto probabilmente parliamo invece di una provenienza più dall'Italia centrale e dalle vecchie no? i vecchi legami dello Stato Pontificio quindi Umbria Marche Lazio naturalmente Abruzzo ecco ora invece siamo all'immigrazione dal mezzogiorno ma anche in molti casi vengono ad abitare poiché parliamo appunto di ceto medio vengono ad abitare qui famiglie giovani che nella loro fase originaria di famiglie da bambini magari abitavano più dentro Roma ma che ora nel boom degli anni 50 e 60 vanno a cercare delle case belle però più approcciabili da un punto di vista economico e anche in questo caso abbiamo degli alloggi a carattere medio economico no? però anche in questo caso molto ben pensati sul quartiere delle valli c'è un altro bel libro che è di Bruno Bonomo e che si chiama proprio quartiere delle valli in cui appunto in particolare Bonomo analizza no? il ruolo dell'immobiliare al di là appunto delle discussioni sulle speculazioni che ovviamente ci furono abbondantemente ma il ruolo di riflessione urbanistico-architettonica che viene portato avanti all'interno di queste di queste imprese e sono appunto delle palazzine a loro volta con ampi spazi comuni con ampi cortili Valpadana Conca d'Oro no? dove i bambini di queste famiglie giovani che arrivano cresceranno insieme e in qualche modo creeranno creeranno anche loro no? un tessuto un tessuto comune e tant'è vero che poi negli anni settanta nel quartiere delle valli apprenderà vita un importante quartiere comitato scusato e comitato di quartiere che si batterà a lungo per portare servizi più adeguati al territorio e infine il saldamento proprio totale avviene con diciamo le case di edilizia privata lungo via Leionio io sono nata in una di queste sono case appunto di nuovo pensate per il ceto medio per lo stesso tipo di soggetti di cui parlavamo prima che però guardano direttamente Valmelaina il tufello e quindi sono da una parte vicine si affacciano dall'altra però sono in qualche modo parte di un'altra realtà sia sociale che appunto cronologica infine e così chiudiamo il nostro inventario abbiamo due negli anni del dopoguerra sempre in questa area due realtà che fanno parte diciamo dell'immagine più negativa della città della crescita del boom che sono i borghetti cioè in pratica quelli insieme di baraccamenti vere e proprie favelas che tra gli anni 50 e 60 cresceranno nelle pieghe della città in crescita e che sono in tutta Roma diventeranno una delle grandi discussioni su Roma capitale ma nel caso nostro prendono diciamo la forma di due insediamenti in particolari Prato Rotondo e Fosso di Sant'Agnese il Fosso di Sant'Agnese è un diciamo un lungo schieramento di baracche lungo la Niene al di là della Niene lungo la ferrovia ed è stato molto studiato in particolare da negli anni 60 da Giovanni Berlinguerre e Piero della Seta che in un libro che si chiama proprio Borgate di Roma analizza la componente e la provenienza degli abitanti del Fosso di Sant'Agnese che vengono quasi tutti dalla Calabria addirittura dicevano gli autori dagli stessi paesi cioè sono interi paesini della Calabria che si riproducono in questo borghetto lo stesso Prato Rotondo Prato Rotondo è di nuovo un insieme di baracche ancora meno visibile perché il Fosso di Sant'Agnese è lì lungo il fiume chiunque passi il ponte delle valli lo vede invece Prato Rotondo è proprio in una piega del territorio dietro i prati fiscali sotto il quartiere Angelini che è il quartiere dei ferrovieri e nascosto ed è una vera e propria favelas ma le sue lotte per la casa alla fine degli anni 60 prima anni 70 animeranno appunto in parte contribuiranno ad animare le lotte per la casa del territorio nel 71 Prato Rotondo viene sbaraccato e gli abitanti trasportati ho finito Michele e gli abitanti trasportati appunto alla Magliana quindi tutta un'altra parte tutta un'altra parte della città ecco ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire però questa era un po' la mappa che volevo tracciare e quello che vorrei dire per finire che si tratta quindi di tante realtà diverse che convivono nello stesso spazio che a volte negli anni si intersecano soprattutto da un punto di vista sociale culturale e politica ma che spesso nei percorsi quotidiani degli abitanti invece procedono ognuno per la propria strada è come se ci fossero diciamo delle invisibili paratie che dividono i destini degli abitanti di questo territorio e questo avviene contemporaneamente in tutta la Roma che sta crescendo e quindi questa area per finire è uno straordinario laboratorio di storia urbana che ci porta appunto a riflettere complessivamente sulla storia di Roma contemporanea grazie grazie Lidia Piccioni veramente un intervento fondamentale perché ci fa capire la stratificazione l'articolazione e anche già in questo primo intervento la grande pluralità delle esperienze migratorie che hanno insistito su questo territorio non so se ci avete fatto caso ma Lidia Piccioni ha citato tre modelli diversi migrazione una migrazione proveniente dall'interno della città addirittura quindi da altri luoghi della città persone che si sono trasferite su questo territorio venendo comunque da altri luoghi della città una migrazione internazionale di ritorno che è una grande caratteristica ne abbiamo parlato anche nell'incontro che abbiamo fatto su Corviale a proposito del quartiere del Trullo questa esperienza estremamente contraddittoria di progetto di ritorno voluto dal fascismo che ha avuto nella città di Roma e in alcuni quartieri una diretta insomma anche articolazione e poi l'immigrazione che all'interno della città e all'interno del Tufello arrivava dal resto d'Italia quindi dalla zona intorno a Roma ma poi anche Lidia Piccioni ci ha parlato di flussi che arrivavano dall'Italia centro-merinuale quindi veramente una grande stratificazione una grande complessità e però anche un gioco a incastri direi molto suggestivo insomma che ci racconta anche di una successione di esperienze urbane che hanno avuto poi anche nei vari periodi storici delle grandi sintesi a livello politico e sociale insomma ecco ricordiamoci che questo è un pezzo di territorio che ha costruito anche esperienze di partecipazione politica fin dagli anni del fascismo della resistenza molto molto importanti e molto significativi quindi tante faglie tra i gruppi che però poi di volta in volta hanno trovato anche momenti di ricomposizione e momenti di sintesi grazie grazie Lidia Piccioni le chiediamo se è possibile naturalmente di rimanere collegata per interagire eventualmente anche con con gli altri relatori e le altre relatrici ci mettiamo in collegamento ora con Francesco Carchedi Francesco Carchedi buongiorno lo ringrazio moltissimo per la sua partecipazione Francesco Carchedi è un sociologo è stato uno dei primi studiosi a scoprire il fenomeno dell'immigrazione esterniera in Italia i suoi studi sono originari addirittura della fine degli anni settanta su questo tema è stato un importante anche esponente del mondo della cooperazione e dell'organizzazione sociale a lui abbiamo chiesto un intervento che raccogliesse un po' diciamo il testimone della staffetta da Lidia Piccioni e che si concentrasse sulla sua esperienza personale di persona che ha conosciuto il quartiere proprio negli anni di cui ci parlava Lidia Piccioni dal punto di vista di che cosa erano le immigrazioni nel territorio negli anni di cui abbiamo appena parlato quindi Francesco Carchedi ci farà una testimonianza personale con il sguardo ovviamente di una persona che poi nel suo percorso di vita è diventata anche uno studioso molto importante grazie Francesco grazie a te Michele grazie per questo invito è una cosa molto bella quella che avete fatto e anche per il ruolo che svolge la biblioteca appunto localizzata al Tuffello quello che mi si è chiesto da Michele è di raccontare un po' anche facendo appello ai miei ricordi di quel periodo soprattutto negli anni 50 e molto sinteticamente mi porterò fino diciamo a metà degli anni 70 quando appunto anche tutta l'area Montesagro Tuffello Valmelaina diciamo da area di immigrazione interna comincia a diventare area di immigrazione dall'esterno ma non più di italiani che rientrano come diceva la professoressa Piccioni ma anche flussi che provengono da paesi terzi extra europei io ho apprezzato ovviamente la sintesi che ha fatto la professoressa Piccione e ricordando e lei mentre accennava a delle cose mi sono anche un po' emozionato perché come dire io ho vissuto dall'interno alcuni dei passaggi che sono stati citati infatti io vengo da Campo Parioli che è questo borghetto che si chiama Campo Parioli perché era sotto la collina Parioli dove adesso c'è il villaggio olimpico e sono di origine calabrese tant'è che i miei genitori e anche i miei zii e amici dei miei genitori e dei miei zii costruirono queste baracchette tra le altre appunto a Campo Parioli e nella 57 siamo stati trasferiti appunto a Val Melaina in una zona che non è proprio Val Melaina ma è al confine tra Val Melaina e il Tuffello all'altezza delle all'altezza di dove ci sono adesso i plessi scolastici e quindi diciamo la mia infanzia è in parte vissuta a Campo Parioli e in parte a Tuffello e Val Melaina nel mio immaginario sono sempre stati due quartieri molto simili e andando a scuola quello che io mi ricordo si respirava ma questo l'ho capito successivamente ovviamente ancora un clima come dire un clima culturale che richiamava diciamo i presupposti del fascismo in quanto nelle classi che erano molto numerose sostanzialmente c'era una divisione interna tra quelli i bambini che si come dire autodefinivano romani e i bambini che invece come me venivano additati come nel mio caso Calabrotto in altri casi Abruzzese o meglio Bruzzese in altri Siculo e così via questi appellativi è chiaro che io non li capivo non mi rendevo conto cosa significava essere tacciato per Calabrotto ma ne parlavo con papà e con mamma e loro mi dicevano Francesco non farci caso sono dei cretini che non capiscono nulla tu studia fai quello che devi fare e non ti non accettare queste provocazioni però è chiaro che Calabrotto oggi Calabrotto domani il piccolo gruppo di emigranti emigranti scusate viene dei più corpulenti bambini che c'erano che era al banco vicino a me avevamo legato e lui era uno di quelli che si autodichiarava romano da sette generazioni e quindi diciamo che con lui avevo legato e lui a un certo punto ha cominciato a prendere le difese in classe di noi immigrati del sud e quindi dopo scaramucce spintoni eccetera eccetera diciamo che si è creato un certo equilibrio proprio perché Roberto detto il facciolo aveva preso le nostre le nostre difese dico questa cosa perché questa divisione si rifletteva anche tra chi abitava a Valmelaina e chi abitava al Tuffello chi abitava appunto come ricordava la professoressa Nevi Lini di Montesacro e chi abitava al Borghetto di Prato Rotondo o addirittura chi abitava al Fosso di Sant'Agnese quindi questa diciamo provenienza abitativa determinava sostanzialmente anche una divisione tra le persone perché perché c'era sempre un gruppo come dire piuttosto omogeneo quello che si definiva appunto romano da sette generazioni che diventava il punto di raffronto delle provenienze di tutti gli altri questo era molto evidente come erano evidenti ad esempio le bande dei bambini di ragazzini io mi ricordo un episodio che quando ci penso ancora tremo cioè due trecento ragazzini nel Tuffello contro due trecento ragazzini di Valmelaina questo se vi ricordate un paio di settimane fa i giornali parlavano di scontri tra piccoli tra gruppi di ragazzi a Villa Borghese io mi ricordo queste cose stiamo parlando intorno al cinquanta cinquantasette cinquantotto perché ero già abitavo già a Valmelaina ero già in queste case popolari di via Scarpanto e io mi ricordo appunto una violenza inaudita e queste forme di violenze erano praticamente quotidiane si parlava malissimo ovviamente delle bambine c'era un razzismo verso punti meridionali e all'interno del genere maschile contro le bambine e anche contro gli anziani io mi ricordo che sugli anziani si dicevano delle cose bruttissime e tutte queste divisioni diciamo orizzontali e verticali erano comunque questo lo capirò dopo una espediente una come dire una modalità di dividere la coesione diciamo tra gli abbinanti del quartiere quello che succede che a un certo punto queste migranti accade una cosa molto bella lo voglio ricordare anche tra i bambini della scuola eccetera eccetera quando muore Kennedy nel 63 c'è uno sciopero dei studenti molto spontaneo io mi trovo in questo sciopero spontaneo con il gruppo dei miei amichetti appunto della scuola L'Aldo Manunzio e anche noi andiamo a questa manifestazione sentendo una macchina del partito comunista che diceva hanno ucciso un grande leader un grande presidente manifestazione a piazza a Porta Pia quindi andiamo a Porta Pia con un autobus mi ricordo il 137 si chiamava che aveva capolinea proprio davanti ai palazzoni di Valmelaina quelli che la professoressa citava come un grosso blocco caseggiato molto molto grosso con appunto 24 o 30 scale non ricordo bene ma una cosa molto grossa andiamo lì con questi ragazzini miei amichetti cominciano gli scontri perché c'è una carica violenta della polizia noi scappiamo nel cantiere della che stavano costruendo il sottopasso quello che appunto tutti noi conosciamo insomma il tunnel di Porta Pia scavalchiamo nel cantiere e dopo qualche minuto veniamo picchiati da un cellerino che prima ci prende a schiaffi eravamo 4 o 5 prende a schiaffi tutte e 4 o 5 bambini poi noi abbiamo cominciato a piangere e ci aiuta a salire la staccionata per scappare quindi quando siamo tornati a scuola il giorno dopo commentando questo episodio è stata una cosa estremamente importante perché perché quell'episodio ha raccolto intorno a questo gruppetto di eroi che erano stati picchiati dalla polizia per motivi politici tutti quelli che ci criticavano come Calabrotti come siciliani come Bruzzesi e come Terroni perché c'era qualcuno che utilizzava anche questo termine in modo molto dispregiativo lì inizia un percorso interessantissimo perché questo gruppo comincia a ragionare anche in termini sociali in termini politici e ci rendiamo conto insomma avevamo intorno ai 12-13 anni che andando in parrocchia le due parrocchie le tre parrocchie del quartiere dove questi amichetti insomma comunque andavano che era il Redentore che è a Valmelaina San Polziano che sta al Tufello e la chiesa della Divia Valpadana questi ragazzi che andavamo anche in chiesa e qualcuno di noi era anche un chirichetto con un prete straordinario con diversi predi straordinari tra cui Gerardo Lutte che ci e ma anche altri non conosciuti lui poi è diventato ce n'è ancora un altro molto conosciuto Don Vinicio Albanesi praticamente ci ci suggeriscono di andare a Prato Rotondo per aiutare i bambini di quel borghetto a fare i compiti quindi noi che eravamo additati come i calabrotti eccetera eccetera ci troviamo con questi preti a svolgere un'attività sociale è incomiabile anche se non capivamo bene ma era molto chiaro che aiutando quei bambini a fare i compiti avremmo fatto stavamo facendo un lavoro sociale importante e quella esperienza mi ha segnato un po' diciamo tutto il mio percorso anche professionale perché ho cominciato come dire a occuparmi di situazioni di marginalità proprio per quella situazione che si era venuta a creare con quel gruppo di ragazzi che cominciavamo come dire a essere impegnati e vederci anche al di fuori della chiesa poi nascerà negli anni alla fine degli anni sessanta un nucleo che verrà insomma qualcuno se lo ricorderà delle persone più grandi il collettivo comunista Valmelaina Natufello cosa succede con questa situazione che riusciamo a reinterpretare quello che era accaduto prima tutte quelle divisioni tra i diversi quartieri diversi gruppi il papà faccia l'impiegato il papà era operaio come il mio tra l'altro ma ci accomunava un'idea di uguaglianza molto forte questo è un dato estremamente importante perché perché Tufello e Valmelaina sono stati due quartieri che appunto nella nostra immaginazione diventano Tufello e Valmelaina cioè nel diciamo nel gruppo o nei gruppi che avevano iniziato interventi sociali prima del sessantotto diciamo e poi politici dopo il sessantotto e abbiamo scoperto e vedevamo il quartiere in un'altra logica quindi i palazzoni del Tufello di Valmelaina erano come dire parlando con gli anziani facevamo le prime inchieste sociali non sociologiche e intervistando gli anziani ci raccontavano come quei palazzoni erano importanti per loro perché perché come diceva la professoressa erano sostanzialmente abitati da persone che provenivano dal centro storico e dal centro storico ma una parte consistente di loro erano considerati sovversivi erano anarchici erano comunisti erano socialisti e c'era anche una parte di sottoproletariato e anche come dire dei pregiudicati che la sera mi ricordo questo me lo ricordo perché avevo degli amici che abitavano lì dei ragazzini insomma che la sera alle nove veniva chiuso questo palazzone e le quattro ingressi venivano praticamente chiusi c'erano quattro portieri e col tempo abbiamo capito che lì venivano sostanzialmente chiuse le porte perché c'erano delle persone al confino soprattutto delinquenti o persone che erano comunque ancora considerati pericolosi dalla polizia perché erano anarchici che poi scoprimmo che avevano dei rapporti diretti per esempio con la Spagna fascista diretti nel senso con i resistenti spagnoli e alcuni di loro avevano fatto anche la resistenza in Spagna oltre alla resistenza che citava la professoressa Piccioni nel nostro paese quindi questo gruppo si collega con queste diciamo esperienze storiche e anche al tufello si scoprono personalità importanti per noi giovani insomma giovani sedicenni diciassettenni e ad esempio una cosa interessantissima che vedevamo sempre una giovane con la tuta di mondezzaio perché all'epoca appunto la raccolta veniva fatta per le scale un giovane mondezzaio che era sempre sporco con questa tuta sempre un po' sporca però girava sempre con un giornale e io e gli altri amichetti che lo vedevamo passare ci chiedevamo chi era questo aveva i capelli un po' lunghi quindi aveva un'aria anche da pensatore e poi girava sempre col giornale con qualche libro un giorno uno di questi amici Mario si chiamava stava nella libreria che sta di fronte a vicino una libreria si chiama il Vesuvio che sta sul piazza degli Uganei entra questo ragazzo mondezzaio che faceva il mondezzaio con Mario questo mio amico e il proprietario dell'epoca lo guarda un po' dall'alto verso il basso e gli dice cosa voleva e lui gli risponde che voleva un dizionario questo insomma della libreria prende un dizionario molto piccolo molto striminzito e gli dice ecco questo è quello che potrebbe fare per lei lui lo guarda e dice guardi è troppo piccolo vorrei una cosa un po' più grande un po' più voluminoso ne prende un altro e anche questo viene rifiutato da questo giovane operaio e Mario ci raccontava che la faccia del commesso cioè del proprietario si era estraniata come per dire ma questo cosa vuole ne prende un altro un terzo dizionario glielo dà e gli dice guardi questo dizionario è ottimissimo ripetendo ottimissimo più volte questo giovane operaio con molta calma dice vediamo se c'è ottimissimo sfoglia il dizionario e ottimissimo non c'era guarda il proprietario e dici guardi non lo voglio perché non c'è ottimissimo quindi se non c'è ottimissimo vuol dire che non è un dizionario adatto a quello che io voglio fare questo si rende conto della stupidaggine insomma della gaff diventa rosso paonazzo prende un altro question un altro scusate stavo dicendo questionario un altro dizionario e glielo dà e lui dice vediamo se c'è ottimissimo ottimissimo non c'era e quindi lo compra questo episodio lo racconto perché mi è rimasto talmente impresso perché perché dava l'idea della effervescenza del quartiere che i giovani operai con i giovani studenti cominciavano come dire a essere molto molto attivi nel quartiere e pertanto questa attività affievolisce di molto le differenze tra i giovani che partecipavano diciamo a questi movimenti giovanili o aderivano anche ai partiti tra l'altro bisogna dire che via Capraia che è una delle strade centrali del Tufello c'erano c'erano tutti i partiti diciamo compreso il partito fascista il movimento sociale ma c'era il centro di cultura popolare c'era il partito comunista il partito socialista il partito repubblicano una sezione della democrazia cristiana e anche una sezione del movimento sociale che poi fu chiusa fu chiusa appunto con una pressione molto forte molto militante da parte di moltissimi giovani del quartiere perché erano dei provocatori eccetera ora questa diciamo esperienza così socializzante coinvolgeva non faccio esagerazioni una stima approssimativa di militanti quasi 3.000 persone e questo fatto come dire ci aveva talmente irrobustito che cercavamo di entrare in contatto anche con i primi immigrati stranieri di origine non europea che vedevamo al mercato quando vendevano come dire le cose non so i calzini o vendevano abiti usati quello che si vedono ancora e qui stiamo già all'inizio degli anni 70 e i primi stranieri che conoscemmo li invitammo a partecipare alle nostre attività nel centro di cultura popolare perché venivano fatte delle proiezioni di cinema c'era il teatro c'era la musica ma c'era anche l'impegno militante antifascista c'era l'impegno anche gruppi di studio che studiavano collettivamente e anche le prime inchieste che iniziavamo a fare a tratti diciamo dalla conoscenza e anche perché alcuni di noi erano studenti universitari e tra l'altro un gruppo di eritrei con cui io feci conoscenza all'università li invitammo al centro di cultura popolare e un giorno a settimana loro facevano le loro riunioni facevano le loro attività anche culturali e molto spesso facevano venire anche i loro compagni nelle loro famiglie e si mangiava insieme quindi è lì che inizia come si dice in gergo sociologico il passaggio da area in questo caso zona di immigrati italiani a immigrati stranieri e quindi con negli anni successivi nel corso degli anni settanta ovviamente gli stranieri non erano stranieri non comunitari non erano molti ma c'erano dei gruppi che iniziavano come dire a soggiornare anche all'interno del quartiere i primi gruppi di immigrati invece cominciano a essere un pochino più numerosi perché quando inizia come dire all'inizio degli anni ottanta a essere come dire disponibili i posti di lavoro all'interno delle case un po' più nelle famiglie un po' più agiate appunto della zona Montesacro e in quella del tufello bisognerà aspettare ancora molto io concludo spero di non aver annoiato nessuno e grazie per l'invito e buon lavoro io vi devo lasciare perché Michele lo sa devo fare gli esami in quattro Università della Sapienza prima che ci lasci però Francesco ci tengo a ringraziarti perché la tua è stata una testimonianza molto preziosa molto intensa e restituisce anche il senso diciamo di questo percorso che abbiamo cercato di mettere in piedi in questi mesi tornare su alcuni passaggi storici anche grazie alla disponibilità delle persone che li hanno vissuti per effettivamente ripercorrerle concretamente queste immigrazioni e anche per andare a scovare quei momenti sorprendenti inattesi forse di solidarietà di ricomposizione e anche di effettivamente trasformazione perché poi sono delle stagioni che hanno segnato anche dei cambiamenti molto molto importanti quindi veramente grazie sono arrivati anche dei commenti che ti ringraziano per questo per questo intervento e anche con te poi speriamo di poterci rivedere presto anche in presenza anche alla biblioteca Flaiano mi scuso ancora ma non posso non fare quello che sai ciao grazie mille ciao Francesco buon proseguimento bene quindi il percorso è arrivato a questo punto con le ultime battute di Francesco Carchedi al mondo dell'immigrazione straniera è arrivato nella fase più più vicina a noi quindi quando tutta l'area del nord-est di Roma e anche la zona di cui parliamo di più oggi cioè Trufello Almelaina e dintorni ha iniziato a vedere presenze nuove che si affiancano che si stratificano parallelamente a quelle presenze più antiche che erano quelle relative all'immigrazione interna e quindi per questo motivo abbiamo invitato oggi Maurizia Russo-Spena buongiorno Maurizia Maurizia Russo-Spena è una studiosa una ricercatrice che ha lavorato molto sulle stratificazioni sociali dell'immigrazione nella città di Roma e non solo e a lei abbiamo chiesto di passare alla fase più attuale e quindi abbiamo chiesto di provare a delineare una mappatura una descrizione un racconto dell'immigrazione straniera in questo territorio a te la parola grazie ancora per aver accettato questo invito grazie a te Michele Michele ovviamente è un collega per me di avventure culturali che misce a lui la passione per lo studio della mobilità umana ringrazio quindi lui ringrazio il CNR ringrazio poi invece la biblioteca comunale in cui le mie figlie che stanno crescendo in questo quartiere si sono culturalmente nutrite per anni e che è un presidio pubblico io credo fondamentale soprattutto in questi tempi per me è molto importante contribuire a questa discussione di stamattina non solo dal punto di vista di studiosa ma anche come abitante del terzo municipio la porzione di urbano in cui sono stata trapiantata da Napoli dai miei genitori dai sei anni di vita in poi ed è quella in cui sono cresciuta in cui ho frequentato le scuole in cui ho iniziato anche il mio attivismo sociale ed è oltretutto la porzione di territorio che ovviamente ho lasciato nel tempo e che invece ho ritrovato recentemente e l'ho ritrovato come come dire una porzione vivida di relazioni di socialità di mutualismo e la scuola d'italiano del laboratorio Pazzel è solamente un esempio molto significativo e mi aiuterò questo quarto d'ora a disposizione che ho anche con delle slide perché ovviamente ho cercato di seguire il compito che mi è stato assegnato cioè della mappatura della recente immigrazione quindi se potete mandare almeno il titolo delle slide e quindi venendo al compito che mi è stato assegnato oggi vale a dire la ricostruzione della fisionomia della recente immigrazione straniera nel quartiere Tufello quello che nei dati amministrativi viene trattato come zona urbanistica 4i poi lo vedremo nelle mappe quindi subcomunale del municipio terzo non è stato non è affatto semplice se non si vogliono fare affermazioni e dire cose semplicemente di buonsenso esplicitare quelle più evidenti che sono anche frutto dell'esperienza personale in questi giorni da quando mi hanno chiesto di partecipare all'evento mi sono interrogata su quali fonti fosse più idoneo consultare per restituire una fotografia ragionata del quartiere e anche del municipio vedremo che i dati sono soprattutto sul municipio che permettesse anche però di interpretare i contesti di vita diciamo che nel mio lavoro spesso ha a che fare con banche dati i dati amministrativi sul piano nazionale europeo e anche cittadino e il ragionamento questa volta però su micro dati di tipo subcomunale sia sul piano dell'accesso al dato sia su quello della sua significatività ha sicuramente enfatizzato e portato alla luce alcuni elementi di criticità che a mio avviso devo assolutamente collocare in premessa a questa discussione una premessa che ho tentato di sintetizzare nella seconda slide in questi tre punti che sono assolutamente interrelati correlati che sono ovviamente di ordine generale riguardano la questione di definizioni categorie dati e sinteticamente vado ad esplicitarli per poi passare invece alla mappatura alla ricostruzione che ho potuto fare innanzitutto la multidimensionalità del processo insediativo perché sono molti gli studi teorici e tantissimi i fuochi di interesse che le ricerche empiriche sulle migrazioni hanno prodotto nell'ultimo secolo e che con varie declinazioni ci offrono dei quadri interpretativi molto compositi sul fenomeno migratorio e sui suoi impatti sui contesti di accoglienza questo perché il tema chiama in causa il vivere comune i processi di inclusione quelli di marginalizzazione la stratificazione le diseguaglianze sociali le nuove povertà che nei territori insistono ed esistono quindi negli anni abbiamo imparato a non studiare il fenomeno della mobilità umana come dato astratto e neutrale quindi disancorato dalle biografie e dalle traiettorie delle persone perché in realtà al dato va restituita una densità sociale cioè quella che merita e che ci parla quindi anche della differenziazione nell'accesso alle risorse ai saperi alle opportunità e quindi che ci parla non solo di un contesto di provenienza dei migranti ma anche di quello di arrivo cioè di quali risorse sono presenti in un territorio di quali sensibilità anche istituzionali di quale dinamismo sociale vi è nei contesti territoriali si pensi anche agli indicatori che vengono usati recentemente dal CNEL che parla di potenziale di integrazione che ruota intorno ai micro contesti territoriali in questo senso sicuramente gli studi che io attraverso anche da orientalista e da arabista c'è gli studi artercoloniali ma anche le ricerche nel campo microsociologico nell'attenzione che hanno ai contesti alle relazioni sono stati fondamentali perché ci hanno fatto capire che la mobilità umana mette in tensione anche le categorie con cui osserviamo i fenomeni e li interpretiamo questo appunto è il secondo punto che riguarda proprio la problematicità delle categorie definitorie che appartiene però alla ricostruzione delle mappature le nozioni vanno sicuramente chiarite e bisogna problematizzare ovviamente gli usi che anche i saperi esperti e gli ordini discorsivi ci impongono nell'apparente neutralità del dato amministrativo infatti è importantissima e fondamentale la ricostruzione dei profili sociodemografici occupazionali formativi di accesso ai servizi pensiamo accesso alla scuola alle mensa agli alloggi al sistema di accoglienza alle misure anche di tutela del reddito pensiamo ad esempio al reddito di cittadinanza perché è un elemento di conoscenza e anche un elemento fondamentale per poter programmare gestire governare i processi soprattutto sul piano territoriale infatti i piani sociali di zona si dovrebbero basare su una buona mappatura e una buona ricostruzione dei territori però vi è sicuramente un'estrema opacità delle categorie adottate anche dalle fonti che abbiamo a disposizione che presentano delle carenze delle criticità delle duplicazioni ad esempio chi è l'immigrato è il residente è il soggiornante è l'extra europeo quindi l'extra comunitario o è anche l'europeo ad esempio se si guarda l'anagrafe i romeni continuano a farla da padroni chiaramente perché si considerano anche i comunitari quindi straniero è colui che non è cittadino italiano poi ci sono i migranti sedentarizzati con la cittadinanza acquisita li consideriamo ancora migranti le seconde le terze generazioni oppure chi sta chi esiste ma non è regolare e comunque però interroga i servizi sul territorio spesso quindi i migranti perdurano in questa condizione di perenne mobilità e di perennemente arrivati sono appena giunti secondo il dato che ci viene restituito e quindi la realtà sociale si costruisce anche attraverso la costruzione del dato e dei significati ad esso associati ed è un punto molto importante l'ultimissimo che mi aiuta poi a fare appunto la mappatura successiva è l'opacità del dato oltre a quello delle definizioni delle categorie un problema connesso a quello che dicevo prima è questo che concerne appunto l'impossibilità di un accesso agevole ai dati amministrativi nonostante quelli per esempio sul comune di Roma siano open data che pur una legge però ha reso pubblici e trasparenti chiunque che sia uno studioso un amministratore volesse acquisire informazioni di dettaglio sulla consistenza del fenomeno migratorio recente avrebbe moltissime difficoltà di riperimento delle fonti ancora di più nel renderle armonizzabili oltretutto vi è un inefficace ovviamente degli strumenti ufficiali di rilevazione perché il fenomeno migratorio inteso anche limitatamente alle caratteristiche demografiche e strutturali è ampiamente sottostimato è quasi impossibile da rilevare un fenomeno prodotto spesso anche dobbiamo dirlo dalle logiche della governanza migratoria che essa stessa produce a volte informalità e irregolarità quindi per queste ragioni risulta estremamente complesso fornire un quadro di riferimento di scenario che abbia anche la capacità di andare oltre lo schizzo abbozzato che ho potuto fare se passiamo alla slide iniziamo l'elemento di mappatura sul municipio quindi terzo abbiamo pochi dati esclusivamente di fonte amministrativa quelli dell'iscrizione anagrafica che sono estremamente limitate agli aspetti formali e che purtroppo ci possono dire molto poco sulle condizioni di vita di lavoro di relazione sull'accesso ai consumi e in generale al sistema delle risorse siamo nella porzione subcomunale come vi dicevo prima in un territorio in cui la presenza si può dire che sia esiziale confrontato ovviamente con altre grandezze stiamo ancora attendendo i dati dell'ultimo censimento quindi potremmo fare riferimento a quello del 2011 che però dovrebbe uscire a breve e comunque stiamo parlando di residenza sappiamo che i dati come dicevo prima ruotano intorno alla residenza sapendo anche quanto è problematica questa nozione soprattutto in una città come Roma che è centrale negli aspetti di gestione amministrativa delle vite dei cittadini stranieri quindi ci domandiamo chi non è ancora registrato in anagrafe o non è stato cancellato e chi ha una dimora oppure nulla si tratta di residenze reali oppure sono residenze fittizie e comunque c'è un'estrema mobilità sul territorio sappiamo dalle ricerche che la presenza dei cittadini straniere è molto variabile sul territorio romano e non è concentrata necessariamente nelle zone ad alto disagio economiche e sociali li si trova nelle zone esterne al grande raccordo anulale ma li si trova anche nei quartieri storici nel centro di Roma nelle periferie nell'Interland e dipende molto dai lavori che fanno dalle reti migratorie e anche soprattutto dal mercato immobiliare oltretutto ci sfuggono lo vedremo sul dato anche sul tufello in particolare sul municipio terzo gli insediamenti informali che non sempre sono popolati dagli irregolari ma sono sempre più spesso irregolari che hanno perso il lavoro e la casa o che sono fuoriusciti dai sistemi dai circuiti dell'accoglienza formale ma che magari non riescono a pagarsi un affitto quegli invisibili che pure dovrebbero essere invece tracciati perché il dato sia veramente utile a impostare un'azione di governo dei territori se facciamo un confronto brevissimo sui dati che ho reperito rispetto alla città metropolitana che non sono riportati nella tabella quindi dei dati di scenario per esempio ci potrebbe essere utile sapere che ruotano intorno agli extra comunitari quindi ai cittadini non comunitari e quelli almeno che io ho voluto confrontare e nella città metropolitana di Roma nell'annualità 2019 aumenta la quota del lungo soggiorno proprio per rimarcare quello che dicevo prima con titoli prevalenti per motivi di famiglia che rappresentano i due quinti del totale i permessi per lavoro calano e ancora più significativamente quelli per protezione che sono molto inferiori nella città metropolitana l'emersione la regolarizzazione come influirà sul sistema dell'accoglienza vi dico solo che i dati sono invece sul piano regionale il Lazio è la terza regione d'Italia dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna quindi ha il 9,3% di accolti con una forte diminuzione però nell'anno del meno 44% e il 73% sono strutture di accoglienza temporanea e anche questo è un dato molto significativo se osserviamo quello che avviene intorno anche al municipio terzo oltretutto il 6% sono i minori stagneri non accompagnati sui 6.000 presenti in Italia allora i dati che vi vado a presentare provengono dall'ufficio statistico di Roma capitale e sono dati al 31 dicembre del 2019 innanzitutto se vediamo la slide che è presente la popolazione straniera iscritta in anagrafe a Roma proprio al 31 dicembre 2019 è di 382.301 residenti stranieri quindi l'incidenza del 13,4% sul totale della popolazione residente vi è una lieve ma non significativa variazione rispetto all'anno precedente mentre è cresciuta di 3 punti percentuali rispetto al 2009 una cosa da sottolineare è che a Roma l'evoluzione recente della popolazione straniera sul territorio romano è del più 5,2% mentre invece la popolazione totale diminuisce del meno 1% se passiamo alla slide successiva sempre sul territorio romano vediamo che è il municipio nono a detenere l'incidenza minima l'8,8% mentre il municipio primo quello insomma dove è presente anche il quartiere Esquilino per capirci detiene quella invece massima di incidenza più del 20% il municipio terzo veniamo a noi è tra quelli con minore incidenza siamo al 9,4% e Serpentara risulta tra le zone urbanistiche a minore incidenza in tutta Roma seppur ha avuto una variazione positiva nella recente evoluzione degli ultimi quindi 5 anni del più 20,9% quindi stiamo sul 21% e anche nella zona urbanistica di Sacco Pastore che è sempre inclusa nel municipio terzo in cui l'incidenza è minima si regge su un incremento comunque negli ultimi 5 anni del più 31% il tufello che non abbiamo rappresentato con cartogrammi però adesso vi è un quadratino per il tufello abbiamo i dati che però sono di un'annualità precedente quindi sono del 31 dicembre del 2018 vi sono 1.276 stranieri di cui il 59% donne e il tufello occupa l'ottava posizione nel municipio terzo come zona urbanistica Valmelaina è quella che ha più residenti stranieri sono 2.971 mentre la zona urbanistica più bassa è quella dell'aeroporto dell'urbe che ne contiene 285 importante sapere che appunto quando parlo di dato esiziale pesa lo 0,33% sulla popolazione straniera del comune di Roma e lo 0,6% sulla popolazione del municipio terzo mentre se guardiamo la popolazione generale del tufello residente pesa per il 10% importante è il dato quello che dicevo prima dei non localizzati nel municipio terzo sono ben 338 una grandezza significativa rispetto ai numeri generali di cui il 49% sono donne quindi persone non localizzate e su questo ci dovremmo interrogare la slide successiva prego allora a Roma sappiamo che le donne esattamente come nella media nazionale sono il 53% e i cieli binubili sono poco più del 50% nel municipio terzo questa tendenza si conferma dove però il rapporto di mascolinità non rispetta il calo generale che vi è stato rispetto al 2018 e cresce invece del più 1% nella slide successiva vediamo Roma l'età media su Roma è quella di 38 anni e ovviamente la popolazione residente saniera si concentra nelle classi centrali i minori sono il 17% del totale e solamente il 6% è popolazione cosiddetta anziana cioè ultra 65enne mentre è dato molto importante perché si dimostra che l'immigrazione è molto più giovane nella popolazione con cittadinanza italiana gli ultra 65 anni rappresentano il 25% nel municipio terzo l'età media è lievemente superiore si tratta di 39 anni e i minori sono il 12,4% e i più anziani sono il 6,5% quindi come dire sono di poco aumentati rispetto alla media romana e mentre i minori sono un pochino di meno nella slide successiva vedremo anche le provenienze su Roma la gran parte delle provenienze si concentra nel continente europeo parliamo del 44% qui ovviamente ci sono anche i rumeni che la fanno come dicevo prima un po' da padroni e anche all'interno del continente europeo i tre quarti sono comunitari quindi insomma bisogna ragionare anche su questo su questo dato dei residenti provengono dall'Asia il 34% dall'Africa il 12% e dall'America il 10% nel municipio terzo se confrontiamo in realtà la tendenza è assolutamente la stessa perché le aree continentali di provenienza sono quelle europea ovviamente europea comunitaria e non è circa il 39% e vi è una netta predominanza femminile questa cosa ci aiuta questa distribuzione di genere ci aiuta anche per capire poi i dati sull'occupazione poi vi è il continente asiatico che rappresenta il 38% qui con una netta prevalenza maschile il continente americano in particolare ovviamente quello sudamericano con il 12% e qui con prevalenza femminile e continente africano in ultimo con una prevalenza maschile se andiamo a vedere le singole cittadinanze avremo che un quarto è rappresentata dai cittadini romeni seguono i filippini all'11% i bangladesi al 9% scusate i cinesi al 5% e gli ucraini al 4% seguono poi altre nazionalità significative e cittadinanze come si dice meglio che ruotano sul dato Perù Polonia Egitto India e Sri Lanka e il terzo municipio conferma le prime tre posizioni cioè rumeni filippini e bangladesi e seguono poi gli ucraini e i peruviani che cosa possiamo fare in ultimo come ragionamento anche se non abbiamo dei dati ovviamente dei micro dati che ruotano né sul municipio né tantomeno sulla zona suburbana del Tofello qualche ragionamento però sulle cosiddette specializzazioni etniche nel mercato del lavoro che possono essere importanti per dirci qual è l'accesso anche al mercato del lavoro e al reddito su quelle vocazioni quindi che appartengono ad alcune comunità nazionali che magari ci possono dire qualcosa anche sulle presenze nel municipio terzo nel dato generale che caratterizza la forza lavoro straniera su Roma i dati ci provengono dalla città metropolitana sono annualità 2019 e ci dicono che il 54% degli occupati sono maschi e ovviamente a Roma il processo di terzializzazione è molto marcato perché l'89% è occupato nei servizi e anche le assunzioni quindi il dato delle comunicazioni obbligatorie ci dicono che sono state soprattutto nel commercio e nella ristorazione si tratta di un lavoro manuale non qualificato per il 42% e si tratta soprattutto di addetti alle vendite quindi commercio attività di ristorazione e ai servizi personali quindi lavoro domestico e lavoro di cura per il 38% ovviamente le retribuzioni sono nella fascia bassa cioè quella che arriva a fino a 800 euro mensili per il 42% in ultimo un'impresa su 10 in Italia a titolarità straniera e 52 mila sono a Roma metropolitana che si conferma come prima città metropolitana soprattutto nel settore del commercio se passate l'ultima slide vado a conchiudere scusate se ovviamente la trattazione è stata anche un po' annoiosa però ho cercato di seguire il compito che mi era stato assegnato i dati che ho presentato su Roma metropolitana il comune di Roma e il municipio terzo e quella piccola parte del tuo fello ci consentono sicuramente di descrivere e fare una fotografia ma non purtroppo di interpretare e di compiere delle relazioni significative perché le spiegazioni ovviamente vanno trovate nel contesto locale come dicevano anche gli interventi che mi hanno preceduto probabilmente anzi sicuramente questo progetto del CNR si preoccuperà anche come indicazione di policy di questo aspetto di rilevazione dei dati quantitativi io ovviamente da ricercatrice sociale dico che i dati quantitativi che ci restituiscono la fisionomia del fenomeno con profili anche abbastanza precisi sociodemografici e socioeconomici vanno necessariamente integrate con la ricerca sul campo col feed avendo una postura cito in questo caso semi e boni ben più autorevoli di me da etnografia militante che è cara appunto a una parte delle scienze sociali che tiene conto dell'osservazione dei territori dei contesti di vita ma anche delle domande di città partendo appunto dai presidi come quello della biblioteca ma anche quello della scuola da forme di inchiesta dalla mobilitazione di attori sociali civici che qui oltretutto nel nostro quartiere amano giustamente definirsi come comunità vi ringrazio ancora e scusate per la noia e la lunghezza allora è stato anche questo un intervento molto utile perché effettivamente porre la questione della difficoltà della trasparenza e anche dell'accessibilità ai dati mi sembra una questione centrale su cui dovremo sicuramente ritornare quindi grazie a Maurizio da Russo Spena per aver impostato anche il suo percorso sul territorio sul municipio sulle varie zone urbanistiche a partire da questo che è un limite insomma che dobbiamo segnalare e però comunque mi sembra che una serie di questioni una serie di riferimenti e anche delle linee comunque per comprendere che cos'è l'immigrazione in questa fetta di Roma siano emerse quindi comunque è utile insomma porre in termini critici anche la difficoltà con cui ci approcciamo a studiare questo pezzo di città però qualcosa mi sembra comunque abbiamo potuto anche capirla e devo dire ci sono anche dei rimandi dei riferimenti anche agli interventi precedenti insomma rispetto anche alle stratificazioni territoriali rispetto anche alle varie città di cui che vanno a formare questo pezzo di città quindi insomma mi sembra molto molto utile grazie veramente a Maurizio per questo contributo e ricordiamo che poi per andare puntualmente anche sui dati potete comunque rivedere sui vari sui vari canali questo questo incontro che stiamo trasmettendo oggi in diretta parliamo quindi di immigrazione straniera e per parlarne anche in termini operativi abbiamo invitato a questo incontro Giorgia Barnabè Giorgia Barnabè è una insegnante della scuola italiano per stranieri del laboratorio Puzzle ha una lunga esperienza all'interno di questa scuola che nasce esattamente nella zona del Tuffello e quindi abbiamo deciso come abbiamo fatto anche in altre occasioni come abbiamo fatto per esempio con Magliana con In Senso Inverso abbiamo deciso di invitare la scuola italiano del laboratorio Puzzle a raccontare un po' il proprio percorso e in qualche modo anche a descrivere quello che è stata questa esperienza molto inserita nel contesto metropolitano di lavoro con l'immigrazione esterniera e in particolare di insegnamento della lingua italiana che tra l'altro si rifà anche al percorso di cui ci parlava prima Francesco Carchetti delle scuole popolari di qualche anno fa quindi siamo anche qui dentro una continuità molto interessante tra passato e presente grazie Giorgia Barnabè le lascio la parola buongiorno e ringrazio tutti gli organizzatori e le organizzatrici per aver invitato anche a noi a parlare di questa nostra esperienza ormai decennale in particolare ci tengo a ringraziare anche la biblioteca Flaiano alla quale sono molto legata in cui ho trascorso tutti gli anni dell'università vorrei fare una piccola presentazione della scuola in generale io come si diceva prima sono un insegnante della scuola di italiano per stranieri di Labbuzzle la scuola nasce nel 2009 su iniziativa di un piccolo gruppo di persone fondamentalmente in risposta a quelle che erano le politiche quelle che sono state le politiche di integrazione da poco approvate e nello specifico faccio riferimento al pacchetto sicurezza del 2009 che ha introdotto il cosiddetto accordo di integrazione il quale tra le altre cose ha inserito come requisito imprescindibile fondamentale per la regolarità del soggiorno del cittadino straniero sul territorio nazionale la conoscenza della lingua italiano attestata di livello a due senza però al contempo fornire degli strumenti adeguati per l'apprendimento di questa per l'apprendimento della nostra lingua queste misure poi sono diventate operative e sono entrate effettivamente in vigore a partire dal marzo 2012 e sono rivolte a tutti i cittadini stranieri e cittadine straniere maggiori di 16 anni per riagganciarmi un po' a quanto illustrato anche dagli interventi precedenti e alle diverse stratificazioni delle migrazioni sia interne ma nei tempi più recenti ovviamente ci riferiamo anche per la nostra esperienza empirica alle migrazioni provenienti da altri paesi e quindi un po' la geografia delle migrazioni è interessante osservare come nel corso degli anni le comunità etnico-linguistiche che hanno frequentato e che frequentano tuttora i nostri corsi siano esattamente lo specchio delle ondate migratorie che si susseguono nel tempo per fare qualche esempio tra il 2011 e il 2012 quasi l'80% direi degli studenti delle studentesse che frequentavano i nostri corsi provenivano da paesi del Nord Africa diciamo in conseguenza agli eventi scatenati dalla primavera araba qualche anno dopo abbiamo registrato un forte incremento invece di cittadini provenienti dall'Ucraina in seguito alla crisi del Donbass negli anni più recenti invece la gran parte dei nostri studenti proviene da paesi latinoamericani con particolare riferimento a Perù Venezuela e Colombia c'è poi invece una componente storica fissa e costante nel tempo dal 2009 a oggi che è rappresentata invece dalla comunità del Bangladesh questo a mio avviso è un aspetto molto interessante da analizzare perché comunque permette anche di inquadrare la situazione nelle situazioni sociopolitiche dei paesi di provenienza a partire dal 2011 la scuola è entrata a far parte dei progetti che animano Puzzle che è una realtà auto-organizzata e che di anno in anno ha incrementato ha incrementato le sue attività all'interno del territorio a servizio del territorio costruendo dal basso tantissimi progetti così anche la nostra esperienza come scuola d'italiano è andata via via crescendo sia in termini di frequentazione che in termini di competenze molti degli insegnanti infatti hanno hanno intrapreso percorsi di formazione glottodidattica specifica per l'insegnamento dell'italiano a stranieri conseguendo anche la certificazione di Itals che è proprio la certificazione per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda lingua seconda perché è la lingua che si impara nel contesto in cui si è inseriti la scuola è entrata inoltre a far parte della rete scuole migranti che molti di voi conosceranno e grazie alla quale è possibile entrare innanzitutto in contatto con altre realtà simili e di conseguenza avere un continuo scambio di buone pratiche e si può apprendere tantissimo dalle altre esperienze e anche semplicemente la come dire l'attività di rete che rende tutto più più bello fondamentalmente far parte della rete dà inoltre anche la possibilità di ospitare i tirocinanti di tal se questo è sicuramente un altro punto a favore perché ci permette anche di incrementare le forze tra gli insegnanti e le insegnanti tutto questo piccolo bagaglio di competenze che negli anni ci siamo costruiti è stato poi anche messo a disposizione di tutte le persone che hanno deciso di attivarsi come insegnanti di italiano per stranieri facendo dei cicli di formazione questo perché questo tipo di insegnamento è un insegnamento che è ben lontano da quello che ricordiamo dai nostri banchi di scuola e tende a mettere al centro la persona che si appresta ad apprendere la nostra lingua con tutti i suoi interessi e i suoi bisogni specifici al fine di garantire non solo l'apprendimento della lingua quindi come strumento di sopravvivenza ma anche tutto ciò che da essa ne deriva in termini di integrazione emancipazione autodeterminazione in un contesto sociale che spesso e volentieri può essere anche molto lontano da quello del paese di origine e proprio dalla necessità di fare focus quindi sui bisogni specifici delle persone che hanno frequentato e che frequentano tuttora i nostri corsi è stata posta l'attenzione su una categoria in particolare che è quella delle donne le donne infatti spesso giungono in Italia attraverso il ricongiungimento familiare e hanno pochissime opportunità di socializzazione e diciamo di emancipazione da quello che è il loro ruolo spesso confinato alle mura domestiche per questo sono stati attivati ormai da diversi anni dei corsi per solo donne al fine di dare loro la possibilità non solo di apprendere la lingua ma anche di passare un momento insieme ad altre donne non necessariamente provenienti dalla loro comunità di appartenenza dallo stesso paese di origine spesso poi le donne vengono accompagnate dai loro figli piccoli e per questo abbiamo pensato anche di creare dei laboratori diciamo ludodidattici per questi bambini per le bambine per innanzitutto creare un momento di gioco uno spazio di gioco altrimenti si annoierebbero a fare lezione con le mamme e poi soprattutto anche per dare alle mamme un momento tutto per loro e di passare quest'ora e mezza due in compagnia come accennavo prima la scuola d'italiano in questi in questi dieci anni di di esistenza è cresciuta tantissimo anche in termini di frequentazione siamo partiti nel 2009 con tre studenti e quattro sedie e ci ritroviamo oggi invece a parlare di numeri ben diversi ogni anno infatti sono circa tra le 80 e le 100 persone che attraversano il nostro spazio ovviamente le classi per stranieri non hanno una partecipazione fissa le classi sono piuttosto fluttuanti persone che arrivano all'inizio dell'anno poi scompaiono poi riappaiono insomma è abbastanza fluida come frequentazione c'è poi invece un piccolo gruppetto di di stoici frequentatori che invece ci portiamo avanti non solo nel ciclo annuale quindi da settembre a giugno ma per anni molte di queste persone poi mi piace sottolineare come una volta arrivati a scuola non si soffermano alle attività della scuola d'italiano ma spesso si sono affacciati anche agli altri progetti di puzzle mi viene da pensare in particolare allo sportello legale o anche alla scuola popolare soprattutto per ragazzi in età scolare si è creato quindi un circolo virtuoso che mette insieme diverse realtà e competenze volendo poi vedere questo aspetto da un'altra prospettiva la prospettiva opposta quindi la nostra mi viene da dire che puzzle è sicuramente con la scuola d'italiano e gli altri progetti diventata negli anni un punto di riferimento per tutti i cittadini e le cittadine che spesso sono andate in cerca anche di risposte o di mediazione nelle questioni legate alla pubblica amministrazione o anche nelle problematiche relative all'inserimento scolastico dei figli cosa che tra l'altro è un aspetto che diciamo colpisce particolarmente la questione anche del soggiorno perché un migrante che non riesce che non iscrive il figlio minore alla scuola dell'obbligo ha ripercussioni poi anche sulla regolarità del suo soggiorno spesso però si incontrano molti ostacoli quindi ci siamo trovati noi anche a fare delle mediazioni per quanto riguarda le iscrizioni gli inserimenti scolastici guardando come dicevo prima questa situazione di essere diventati un punto di riferimento dalla prospettiva opposta spesso sono gli studenti stessi e le studentesse che noi abbiamo preso come riferimento in molte occasioni infatti alcuni studenti storici sono diventati per noi dei mediatori culturali mi viene di fare l'esempio di Fahim un ragazzo arrivato dal Bangladesh da bambino che ora si può considerare a tutti gli effetti una seconda generazione è perfettamente bilingue e in diverse occasioni lo abbiamo chiamato per diciamo aiutarci e farci da mediatore linguistico culturale questo ci fa capire quanto questa esperienza sia un'esperienza totalmente e perfettamente bilaterale non si tratta infatti di una scuola d'italiano in cui c'è un rapporto frontale docente studente ma c'è uno scambio continuo c'è della reciprocità si creano delle relazioni che poi vanno anche permangono in molti casi nel tempo sicuramente nella costruzione di queste relazioni ha giocato tantissimo anche l'organizzazione di attività passatemi il termine diciamo se vogliamo rimanere nel gergo scolastico extra didattiche parlavamo prima delle tombolate natalizie o partite di calcetto prima nelle foto che stanno passando ci sono diversi di questi momenti cineforum lezioni all'aperto passeggiate gite e soprattutto nel cuore ho proprio le cene multietniche sono dei momenti di condivisione bellissimi in cui ognuno portava un piatto tipico del proprio paese e si creavano questi meravigliosi buffet con piatti provenienti da tutto il mondo queste tutte queste attività sono sempre state largamente partecipate e questo ci dà una dimostrazione del fatto che l'attraversare la scuola d'italiano non fosse solo un strumentale all'apprendimento della lingua ma negli anni si è creato proprio uno spirito di comunità e di appartenenza questa per esempio è una festa di un anniversario di puzzle finita con un grandissimo karaoke da parte di tutti gli studenti e tutte le studentesse e quindi si è creato negli anni uno spirito di comunità e di appartenenza e quindi questi spazi vengono attraversati non solo come scuola d'italiano ma anche come luoghi in cui tessere delle relazioni delle amicizie delle piccole reti che permettano anche di andare un po' oltre quelle che sono le comunità etnico-linguistiche di appartenenza purtroppo da marzo del 2020 come tutti la gran parte delle nostre attività si sono dovute fermare questa torta l'ha fatta una nostra studentessa perché poi spesso succede che le lezioni diventano delle gare culinarie ogni giorno qualcuno porta qualcosa stiamo sempre a mangiare fondamentalmente quindi dicevo che da marzo purtroppo la maggior parte delle nostre attività si sono dovute interrompere mi riferisco ovviamente a tutte queste atmosfere ludiche siamo però andati avanti con con le lezioni a distanza la maggior parte si la maggior parte delle lezioni adesso si stanno svolgendo su piattaforma online e c'è un piccolo invece gruppo di persone che sta portando avanti delle lezioni solamente un giorno in presenza per diciamo garantire una sorta di continuità ma con dei numeri molto molto ridotti proprio per garantire le diciamo le misure di sicurezza e nonostante ciò insomma resistiamo e c'è una cosa buona mi viene da dire che ha fatto la didattica a distanza che è quella di averci tenuto in contatto con studenti e studentesse che magari si sono trasferiti altrove c'è Katia che oggi dovrebbe essere qui tra noi che lei vive a Bologna da anni ma nonostante questo non si perde una lezione il martedì e il giovedì lei è sempre presente concludo con con l'auspicio che presto si possa tornare a fare a fare tutto in presenza anche incontri anche incontri di questo tipo e ringrazio ancora una volta la biblioteca e gli organizzatori e le organizzatrici perché parlare di questa nostra esperienza ci dà insomma un valore di rappresentanza territoriale per me molto importante grazie allora grazie Giorgia e dunque purtroppo abbiamo avuto un problema con Katia Alva perché ha avuto un problema al lavoro e quindi non si può collegare si scusa ci saluta a tutti quanti sicuramente recupereremo insomma in futuro anche questo livello anche di testimonianze anche di racconti insomma oggi ci siamo tenuti più su un filo come dire introduttivo alle questioni che hanno a che fare con le vicende dell'immigrazione del territorio abbiamo una domanda che pongo a Giorgia Vincenza Caropore ci chiede volevo sapere se in questo periodo il laboratorio è aperto grazie mille sì allora è aperto come dicevo prima con attività che per la maggior parte si svolgono a distanza e laddove è possibile qualche attività è rimasta in presenza ma sempre su prenotazione quindi con diciamo delle misure abbastanza precise per garantire la sicurezza bene grazie allora allora va bene allora quindi passiamo alla fase conclusiva di questo incontro e intanto lasciamo la parola anche a Ottavia Murro che voleva intervenire ripeto Ottavia Murro è la responsabile della Biblioteca Fragliano che ha aperto l'incontro di oggi no volevo solo dire che ci sono stati tanti punti di riflessione è stato molto interessante molto toccante soprattutto ringrazio Giorgio insomma per tutto il lavoro che fanno insomma noi della Biblioteca siamo disponibili a collaborare in qualche modo non appena torneremo in sede e c'è stato un intervento del professor Carchiedi l'episodio alla libreria Vesuvio che mi ha veramente commossa e questo mi fa riflettere molto perché questo tipo di discriminazioni continuano ancora ad esserci e voglio dire che la Biblioteca dà libero accesso a tutti indistintamente senza alcuna distinzione libero accesso alla conoscenza e quanto noi ancora dobbiamo fare abbiamo il dovere di fare perché appunto certe cose non accadano più quindi volevo dire questo che la Biblioteca insomma accoglie tutti senza nessuna distinzione e vi aspettiamo tutti speriamo di poter fare il procedimento di questo incontro in sede grazie ancora a tutti grazie Ottavia e approfitto per salutare perché si sono collegati nuovamente Lidia Piccioni ciao Lidia grazie ancora per il tuo intervento Maurizio Rosso Spena e Giorgia che avete sentito poco fa salutiamo Katia Alva che ha avuto appunto un contrattempo nell'ultimo momento e quindi non ci ha potuto raggiungere e però vediamo che questi incontri anche se online stanno riscuotendo molta curiosità quindi siamo sicuri che ci potremo ritrovare in altre forme per continuare comunque con questo discorso e questa e questa riflessione grazie davvero per il contributo e alla prossima occasione vi ripeto i prossimi incontri il 12 febbraio siamo collegati per un nuovo incontro territoriale presso la biblioteca Collina della Pace l'incontro sarà dedicato a Borgata Finocchio e Dintorni quindi stiamo nell'attuale sesto municipio per una riflessione sia di carattere storico che di carattere più legato all'attualità rispetto a un territorio che è molto lontano molto distante da quello di cui abbiamo parlato oggi ma continuiamo con questo spirito il 5 febbraio invece quindi venerdì prossimo ci sarà un altro appuntamento a cura di CNR Ismed e Biblioteca di Roma con altre organizzazioni presenteremo il volume Il confine tra noi che fa parte di un progetto che si chiama DIMMI di Ari Multimediali Migranti una raccolta di testimonianze di racconti prodotti direttamente dal mondo dell'immigrazione straniera con diverse realtà a partire dall'archivio Memorio Migranti dell'archivio di Ristico Nazionale che partecipano a questo progetto quindi questi sono i prossimi appuntamenti e grazie ancora per la partecipazione un caro saluto arrivederci grazie 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 grazie